Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale! Oggi faremo un video di staffette strane Ok, la prima staffetta Vediamo quanto ci mettete 5 di voi sulla trave Via A uvetto, su quella lì E una che parte Che potrebbe essere Elena No, su quella lì Allora, appena Chiara Dopo lo tengo io il tempo Appena Chiara vi sorpassa Voi andate al posto di quella prima Ok? Quando Chiara tornerà Lì in piedi Avrete Cioè io fermerò il tempo 3, 2, 1 Tempo Tutte si spostano E Chiara si mette giù Parte Sofia Via via subito è a tempo E via subito Siete troppo vicine Ginevra non passa Caduta Riparti, riparti, riparti Ferma Ferma Chiara Ginevra Concentrata Siete troppo vicine Pupè Stai ferma lì Sofì Vai Nellì Veloce Siete a 40 secondi Subito 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 Melly Vai Melly resisti Bravissima Via 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 Ele Aspetta Lelena Si deve rimettere giù E Stop Un minuto E 17 secondi Ok Per la seconda sfida Sono tutte a ovetto E Bisognerà Sorpassarle Facendo La capriola Aspetta che prendo fuori Il tempo 3 2 1 Via Mettiti larga 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 Pilla Chiara Subito Subito Vai Melly Su Subito Ginny Eh dovete spostarvi un po' più in là eh Vai 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 Seguila Finita la striscia Vai Ele Dovete spostarvi indietro No Ele Si è sulle sedi Stop 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 Ok Avete fatto un minuto e 08 Ok Per la terza staffetta Facciamo Tutte Sul bacino Sul bacino Sul bacino E Quella in piedi Deve saltare Ok Siamo pronti 3 2 1 Tutte giù Via Questi sono più dei balzi Che dei salti Vai Ele Lasciate lo spazio Resisti Se appoggiate le braccia Non vale Ele Chiara Scusa Non me l'avete fatto provare Vai vai Sofì Salta Salta Giù 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 subito Brava Ginny Questo è Sì ma grazie Resisti Brava Ginny Subito subito Nelli Brava Non cadere Tenetele lo spazio Se no non ci sta Bravissime Melli l'ultima No l'ultima Sì Dai 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 resisti Balzo Mettiti sul bacino E Stop Bravissime Siete migliorate 1 minuto e 07 Dall'altra sfida sulla trave 10 secondi in meno Loro rotolano sul bacino E lei le salta a piedi pari Pronte? 3 3 3 2 1 Via Piano Chiara Piano Subito Sofì devi andare pianino Vai 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 Sofì Piedi uniti Subito Nelli No piedi uniti No piedi uniti Ricomincia Giù 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 Ricomincia Oh stop 43 secondi Ciao Chiara 43 secondi 43 secondi Questa è la sfida che avete vinto Nonostante la Nelli non avesse capito che doveva saltare a piedi uniti Fatte giù Iscrivetevi al canale e attivate qua sopra la campanella Ciao! Ciao! Ci vediamo il prossimo video!